Abbiamo deciso? Sì, sarei incuriosita da questi nidi di rondine Sì, ma è la grande proprio Guarda, meglio di quel piatto non c'è niente, veramente Ma bene, bene, allora, prendo due Due nidi di rondine E solo che a questo punto avrai bisogno del suo consiglio Sì Per contorno, che cos'è che ci sta bene con i nidi di rondine? Dipende, io... A fianco ai nidi di rondine Ci vedrei anche due pezzi di cornicione Facciamo se la petta Due pezzi di cornicione Anche la composizione funziona Vengo su Sì